A Liguri termina 0-2 una Turis apatica accede ad un motivato potenza. La squadra di Mr. Caneo si schiera col solito 3-4-3 col solo assente Santaniello. Inizio di marca Corallina con Giannone che serve Manzi in area, cross per Varutti che calcia un diagonale fuori di poco. La Turis concede spazi e Lucanico, Ricci e Guaita cercano di impensierire la retroguardia Corallina. Al ventunesimo Tascone serve esempio sul secondo palo che di testa colpisce l'esterno della rete. Alla mezz'ora la Turis si abbassa e Sandri dal limite sfiora il palo alla destra di Perina. Il primo tempo termina con un'occasione per il Potenza con Salvemini che dal limite calcia solvolando la traversa. Inizio ripresa con un Potenza più determinato a far solo la partita. Al cinquantesimo cross dalla destra di Costa Ferreira sulla testa di Romero che schiaccia di testa anticipando tutti e mettendo la palla alle spalle di un incolpevole Perina, 0-1. Al cinquantaduesimo a Matino spedisce alto da pochi passi su un cross di Costa Ferreira. Corallina in bambola e capitano al cinquantanovesimo con un'azione sulla sinistra di Nigro che effettua un lento tiro cross, la palla colpisce la traversa e il più lesto è Guaita a ribadire in rete il pallone dello 0-2. Girandola di cambi dal sessantesimo in poi ma la musica non cambia con un Potenza che controlla agevolmente la partita ed una Turis insolitamente disorganizzata a costruire manovre offensive. La partita termina ammestamente dopo quattro minuti di recupero tra i fischi e i mugugni dei tifosi delusi e arrabbiati.